tu 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 come fa il gatto? miau bravo come fa il gatto? 2 2 4 conta bene come fa il gatto? come fa il gatto? no quello è l'asino quello è il cane come fa il gatto? miau bravo come fa amore? come fa il gatto? no quello è il cane bravo quella è l'anatra quella è la mucca no ti sei perso fallo bene dai come fa il gatto? uno due quattro dieci o dieci uno due c'è luce come è fatto? vado? ciao come fa il gatto? come fa? come fa il gatto? come fa amore? 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 come faccio? fai pulizia? due quattro dici quattro conta bene miau uno due due tre dici? no quattordi ripartiamo di nuovo dall'inizio e ciao uno dai contiamo insieme due uno e dagliela dai ricontiamo insieme uno due due tre tre dici tre sei testone come fa amore? come fa amore? peggio come fa il gatto? miau bravo come il palato? wow wow quello è il cane uno due due dici quattro dici dici c'è sempre più cosinista uno due dici quattro dici otto dici otto setto otto dici stai facendo un po' di casino a contare bravo bravo ciao 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 flota flota due dieci otto dieci aci un tagliato miau bravo ciao 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 ciao